Salve a tutti ragazzi bentornati, questo è un nuovo video, un nuovo tutorial su un'altra bellissima fioritura che sto eseguendo adesso che si chiama taglio charlie questa è una fantastica fioritura soprattutto se viene fatta con l'adeguata velocità come sto eseguendo io, ok? come si esegue questa fioritura? innanzitutto dobbiamo partire dalla posizione di servizio, ok? quella con la quale si danno le carte quindi indice, pollice alla base, le altre dita anulare e medio sul lato lungo, mignolo sotto il pollice in questa posizione dà le carte, ok? quindi questa viene chiamata la posizione del servizio quindi l'impugnatura per dare le carte, ok? andiamo subito a vedere il taglio charlie quindi si parte con l'alzata di circa metà mazzo dal pollice, ok? posizione di servizio, il pollice alza circa metà mazzo l'indice invece fa questo lavoro qua, porta il mazzetto sotto, sopra, così la mano contemporaneamente si allarga e lascia cadere il mazzetto e il pollice riporta sopra, in questo modo, l'altra parte del mazzetto quindi pollice che alza, indice porta sotto, la mano si allarga e il pollice porta sopra il resto del mazzetto ve lo faccio rivedere pollice indice la mano si allarga, lascia cadere il mazzetto e il pollice porta sopra ok? qua possiamo aggiustare ovviamente quindi pollice che alza indice che porta sul mazzetto faccio rivedere ok? la mano si allarga e concludiamo portando sopra le carte, ok? ultima volta pollice che tira su le carte indice sotto porta su la mano si allarga, lascia cadere e il pollice copre ok? questo era il tutorial della bellissima fioritura taglio charlie grazie mille grazie a tutti